Conferenza stampa di presentazione dell'anno giubiliare sacerdotale della Diocesi di Mileto Nicotere Tropea che inizierà ufficialmente il 10 ottobre prossimo e si concluderà il 10 ottobre 2024. Sarà un anno particolare per la Diocesi di Mileto Nicotere Tropea perché sarà l'anno motoriano indetto in occasione del centesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale del Beato Don Francesco Mottola avvenuta a Tropea il 5 aprile del 1924. Anche per questo nel corso della conferenza stampa il vescovo di Mileto Nicotere Tropea Monsignor Attilio Nostro è stato affiancato da Don Francesco Sicari, fratello maggiore degli oblati di Don Mottola. Presente anche Don Pasquale Rosano, parroco del Duomo di Senneluca nella veste di Vicario Biscopale per la Cultura. Aspetto questo che si intende sviluppare in senso divulgativo tale da essere sempre più coinvolgente. Parte un anno giubilare importante perché coincide con una ricorrenza che per questo territorio è fondamentale, il centenario di Don Mottola. Sì, quest'anno ricorrono questi due centenari, il compleanno di Natuzza che sarà l'anno prossimo e l'anno prossimo ci sarà anche il 5 aprile, 100 anni dell'ordinazione sacerdotale di Don Mottola. Abbiamo voluto sottolineare questa meravigliosa coincidenza attraverso un anno dedicato in particolare ai sacerdoti. Sarà un lavoro complesso che coinvolgerà l'intera diocesi? Sì, e non solo l'intera diocesi ma io ho chiamato forze anche esterne che si sono volentieri lasciate coinvolgere perché capiscono quanto importante possa essere alla soglia del grande giubileo del 2025 vivere già anticipatamente un giubileo e per questo ringrazio tutte le persone che si sono rese disponibili in diocesi e anche fuori di oggi. Un aspetto che ci pare importante è l'approccio alla cultura che sia però divulgativo, non cattedratico. Sì, la cultura a volte viene percepita come frustrante perché per sentire e per capire un conferenziere a volte bisogna avere una laurea alle spalle. Sarebbe bello avere comunque un approccio di qualità alla diffusione della cultura però anche immediatamente fruibile e ci stiamo provando. Una diocesi che comunque è in fermento per la sua tradizione territoriale. Sì, è molto frammentata oltre che in fermento, è molta frammentata e ha necessità però di essere in qualche modo raggiunta dovunque e compattata e il cammino del sinodo è provvidenziale perché ci permetterà sicuramente di parlare la stessa lingua e andare nella stessa direzione. Grazie.